Manca poco alla festa di Sant'Antonio, siamo nel pieno della Tredicina che prepara i fedeli alla giornata dedicata ad uno dei Santi più amati al mondo. Giornata che sarà seguita come sempre in diretta da Rete Veneta tutto il giorno e quest'anno anche da TV 12, la TV del Friuli che fa parte del network Media Nord-Est. Dall'alba al tramonto, a partire dalle 5.30 fino alle 22.30, la nostra emittente porterà nelle vostre case l'emozione e la fede che circonda Sant'Antonio. Potrete partecipare a tutte le sante messe e alla tradizionale processione che vi racconteremo in diretta, portandovi nel cuore della festa con tanti eventi in esclusiva. Attraverso il sito 13giugno.org potrete inviare una vostra preghiera, accendere una candela o fare una donazione per aiutare i più poveri. Padova in questi giorni si sta preparando, sta accogliendo i fedeli che quotidianamente arrivano in città per pregare sulla tomba del Taumaturgo. C'è grande attesa ed emozione per le strade che iniziano a vestirsi a festa esponendo i drappi con le figie di Sant'Antonio.